Il tuo computer, quanto consuma in Watt? Questa informazione ci può servire se non abbiamo un impianto fotovoltaico, quindi capire quanti Watt consuma il nostro computer, a costruire con i bullet, oppure se stiamo andando a fare un computer, capire che alimentatore dobbiamo comprare. Però facciamo finta che abbiamo già l'idea di comprare un computer, e quali pezzi comprare, però non abbiamo l'idea di qual alimentatore comprare. E quindi cercheremo su PC Part Picker, che lui in base alle informazioni dei Watt prese in internet, si fa un calcolo di tutti i componenti, e ci dice in tempo reale quanti Watt consuma l'intero computer. Quindi cerco Ryzen 5 1600, ok il nostro è il 14 nanometri, poi qua il prezzo è in dollari, e poi capace non è aggiornato neanche l'ultimo secondo. Vabbè ma non dobbiamo stabilire il prezzo ma i Watt, i Watt non cambiano, il prezzo si ma i Watt non cambiano. Ok. Il dissipatore con lo stock dell'MD, dovrei cambiarlo, dovrei mettere quello della Cooler Master. Mettiamo questo, vabbè comunque, alla fine il dissipatore ne chiammucca così tante Watt. La scheda madre è la B450 Max, non la Tomoc ma la Gaming Plus Max, 155 dollari, mizzeca. Poi memoria RAM, è la Crucial Ballistics, è 16 giga, è 3000 MHz mi pare, 74 dollari, e beh io l'ho presa in circa lì. Cioè per ora ci dice i Watt stimati, solo con processore, dissipatore, scheda madre e RAM, HDD, lato Shiba, 1 terabyte, IP300, perfetto. Perfetto, lo storage l'abbiamo messo, poi scheda video, la 1650 Super, o 1650. Ok, della Gigabyte, Windforce Overclock, perfetto questa qui, 329, marò, magari FUS, ora costa di più 500, poi un'altra scheda video, no, grazie di una, ma basta, il case, ma in base alle ventole che c'ha, vabbè, vabbè, perché c'è ventole. L'alimentatore, vabbè, noi ce lo mettiamo intanto, ok, Cooler Master, MWV o SAS, questo qui, perfetto, 80+, sistema operativo, non so che cacchio, c'entra il sistema operativo con i Watt, ma ce lo mettiamo lo stesso, Windows 10 Pro, il monitor, ci metto la Samsung, 144 Hz, l'Odyssey, a bella incirca 200 euro, vabbè, 250 va bene, e abbiamo già scelto le nostre periferiche, ok, in totale sono a 1300 euro, vabbè, ma comunque lui aumenta, diminuisce un casino, e allora, io ho messo anche l'alimentatore, ok, ok, in totale siamo a 279 Watt, quindi ho preso un alimentatore 500 Watt, alla fine un consiglio per chi compra un computer, di uno che tende sempre a risparmiare, uno si prende un alimentatore più basso, perché un kilowatt costa almeno 100 euro in più, almeno, poi la scheda video che ti dice che se consuma 100 Watt, non ci arriverà mai a consumare tutti quei Watt, anche qui quasi 300 Watt, non ci arriverà mai a consumarli, magari se metto GT5 Ultra, anche 100% del processore, certo, metto 100% si, consuma tanti Watt, ma non arriverà mai a consumare 500 Watt, mai, uno tende a comprare un alimentatore più potente, per stare più tranquillo intanto, perché comunque poi, se non riesci ad alimentare il tutto, poi è un casino, perché potrebbe avere cali di prestazione, oppure potrebbe fare anche danni, perché potrebbe sforzare anche i componenti, ah sì, l'ho messo anche l'embuimi, ma comunque non mi dice niente, vabbè, e anche comprare un alimentatore potente, serve per fare un upgrade, che so, io mi ho della 1650, voglio passare a una 2060, capace con 500 Watt, ce la posso fare, ce la posso non fare, dipende, dipende anche dagli altri componenti, certo, cambiando solo la scheda video, non conviene, perché ci sarebbe molto probabilmente, un bottleneck, un quello di bottiglia, che sarebbe una scheda video molto potente, quindi di fascia alta, e un processore medio, fa un quello di bottiglia, per dire, se faccio un gameplay, mi renderizza bene la grafica, ma se c'è un'esplosione, tipo in GTA, un'esplosione, e crash, e dici, inizio, che ha una scheda video potente, che sono a 4080, e mi lagga, perché il processore, non riesce a processare, si, in gioco di parole, quel determinato processo, quindi carosi, alla fine i Watt, si contano, ma come nel mio caso, consuma il computer 300 Watt, potevo prenderlo benissimo, anche da 400 Watt, come provate, ho una giudita Giuseppe, che dove mi ha fatto computer, sono ammazza, comunque carosi, niente, questo è un video, per capire anche quanti Watt, consuma un computer, così io non siete una basso, che bullet, buona giocata, buon gaming, e accadevo un kilowatt di alimentatore.